diverse centinaia di marciatori appassionati ma anche tante famiglie con ragazzi hanno preso parte alla terza walking per simona aiutando la ricerca passeggiata ludico motoria tra le colline le ville capannoresi organizzata dall'ail di lucca l'associazione italiana contro le ocemie linfomia e mieloma molte anche le collaborazioni messe in campo dai donatori di sangue frates di camigliano san colombano segromigno in piano segromigno in monte dalla misericordia santa gemma galgani di camigliano e con il patrocinio del comune di capannori un evento tutto mirato alla solidarietà che anche per questa edizione ha richiamato una grandissima presenza di partecipanti che sono partiti e arrivati al campo sportivo della folgore di segromigno in piano dopo aver concluso uno dei quattro percorsi previsti dai due chilometri e mezzo fino ai 13 chilometri con punti di ristoro e zona premiazione finale e il ricavato della walking per simona organizzata totalmente su base volontaria con la partecipazione fattiva di numerosi sponsor sarà interamente devoluto all'ail di lucca e di pisa per l'assistenza domiciliare e il sostegno all'ematologia dell'università di pisa